Eccoci qua, vogliono tutti parlare di chat a sto giro, non so perché, tutti quanti, come stai? Tutto ok, tu che dici? A posto, a posto, per i liquidi, anche i tuoi attestati sono per i liquidi, allora parto in chat, tutti quanti saranno ghiotti. Quindi, caratteristiche, diciamo, esempi di chat deboli, chat che non funzionano sostanzialmente, allora, attenzione, quindi ci commenterai qualche gaff clamorosa? Sì, più che altro qualche atteggiamento proprio fuori luogo e sbagliato. Ma li hanno fatti i tuoi studenti prima di iniziare? Sì, assolutamente, sono dei classici proprio che vanno sempre, quindi non ti puoi sbagliare mai, perché parti sempre e spesso da questo. Ok, assolutamente, va benissimo, fighissimo. Ok, vai, noi siamo ghiotti, partiamo dal primo. Allora, il primo, che è uno dei classici, è un errore che ne contiene due in realtà, e ti dico. Cioè, chiedere troppo presto o troppo tardi di uscire con la ragazza. Ok. Andiamo su due poli opposti. Sì. Cioè, ovvero, appena, la situazione è questa, è classico, cioè appena c'è un po', un minimo di conversazione, un minimo di botta risposta, e, tra virgolette, magari lo studente è ancora sull'app, neanche è passato in un altro di numero, subito parte con la richiesta di uscire. E quindi, chiaramente, qua ti lascio immaginare che aria tira, poi. Minchia. Ma cos'è peggio, secondo te? Chiedere troppo tardi o chiedere troppo presto? Eh, allora, diciamo che il fatto di chiedere troppo presto tendenzialmente ti porta a bruciare, ok? A bruciare, salvo rarissime eccezioni, ma il troppo presto è sempre un po' inventato. Sul troppo tardi, chiaramente, anche lì è un errore, però tendenzialmente, io parto dal presupposto che magari si è già passati, faccio un esempio, di numero, e quindi là c'è la conversazione che va avanti. E' chiaro che anche lì le tempistiche poi sono importanti per la richiesta di uscita, perché sennò sappiamo bene che va a scadere un po' il tutto. Assolutamente. Il secondo errore? Allora, il secondo errore è un linguaggio troppo analitico, troppo senza privo di emotività, troppo serioso. Cioè, è come se fosse quasi un colloquio di lavoro, per certi versi, e dove si vanno a chiedere, chiaramente, le solite cose, come va, come stai, e si gira attorno a questo, e finisce dopo poco, perché poi, anche chiederlo in questa maniera, sappiamo, insomma, come va a finire. Il terzo ce lo metto io, dimmi se lo riscontri in tanti, in pochi, c'è, non c'è, il fatto di voler da subito sessualizzare il discorso, lanciare, ma anche solo delle battute un po' maliziose, che fanno protendere sempre verso quella via, troppo presto. Esatto, l'etichetta del pervertito è dietro l'angolo, e quindi ce la andiamo subito a posizionare sulla fronte. Sì, assolutamente sì. Sono tutte cose prese un po' dalla poca intelligenza sociale a volte, un po' con saper leggere le situazioni, dove la ragazza chiaramente ha i suoi tempi, ma oggettivamente poi non è tanto la ragazza, ma anche la chat stessa, no? che deve un po' riscaldarsi. E questo passare le tappe così ti porta sempre a portare, a finire la cosa, o quantomeno a bruciartela. Assolutamente sì. Altri ordini che riscontri? Imparare tanto? Schivere tanto? Schivere tanto sicuramente sì, lo scrivere tanto, cioè, io ti ho noto questo, che non c'è la capacità di essere taglienti, incisivi, efficaci quando si parla. A volte si tende quasi a ripetere lo stesso concetto più volte, con l'intenzione di far arrivarlo dall'altra parte, però di dirlo in quattro o cinque linee diverse, e quindi diventa quasi una ripetizione che serve a poco e niente. Vabbè, chiaro, certo. Ma poi non c'è cosa peggiore che dover riscrivere e ripetere la cosa che appena ha detto, perché magari non l'ha ferrata, perché è scritto troppo e si è stato pesante. Assolutamente sì. Altri esempi ci addeboli, in generale, secondo me è anche un palesare troppo presto un interesse. Beh, qua andiamo proprio su proprio l'errore primaria. Cioè... Poi basta poco, io lo dico sempre. La ragazza non è che serve chissà quale manifestazione di interesse. Cioè la ragazza lo capisce, secondo me, già da come scrivi, se e quanto tu le vai dietro. Tendenzialmente è già dalle prime due o tre frasi. Due o tre frasi. Cioè è già quando tu vedi certi screen, quando entra lo studente, guarda, questo è quello che ho fatto. Cominciamo bene, insieme subito a complimenti gratuiti senza un minimo di creatività e subito a fare mille domande, una dietro l'altra. E quindi la frittata è fatta. Assolutamente sì. Altri errori che ti vengono in mente, che in genere commettono praticamente quasi tutti, secondo te cosa possono essere? Ma diciamo che altri errori, fondamentalmente siamo un po' su quelli. O ad esempio, anche chiedere il numero, così dopo tre messaggi, siamo un po' sulla stessa falsa riga di prima. Cioè, neanche il tempo di scambiare due battute e gli chiedi il numero. Non va bene. Cioè, si presuppone il fatto che uno, sei un assegnato, e quindi stai lì. La mente è quello che passa il convento, va bene, della sede portiamo qualcosa a casa. Due, perdi chiaramente il tuo valore, il tuo modo di rappresentare un po' una persona ambiziosa, ma diventi uno che quello che passa viene. Assolutamente. Cammy, sei stato bello esaustivo come sempre, mi direi che ci siamo. Ottimo. Grande.